Benvenuti a tutti i baci, benvenuti sul canale sono Piguet, se non compro un nuovo video questa volta su oh my god come sono messo male Naruto Ultime Ninja Stone 2 ovviamente e fammi usare uno di questi perchè oh che cazzo Vabbè sti gran cazzo, proseguo così ed eravamo qui con Sasuke da, eh si dai su che sto cazzo, Suigetsu Ovviamente ce l'abbiamo fatta Per trovare Karin, mi pare che la prima da trovarsi sia Karin e poi venga giugo Si vede qualcosa o è bianchissimo, beh si, no dai si vede abbastanza bene, se li dai Dopo che ora che lo fate voi, bla 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 Non avevo un cazzo da fare E non dal punto di vista sessuale Orochimaru è morto, io sono il suo diretto erede di conseguenza dal momento che l'ho assorbito sono ufficialmente il nuovo Orochimaru Non rompe i coglioni e ciucciamelo Si No, non è vero, non dice così E porca boia, è bianchissimo, è veramente troppo bianco Cioè, non è colpa mia, comunque ha detto Orochimaru ormai è morto, bla bla bla, sapete quella roba lì Aspettate, provo a fare una coos, una coos, aspettate un attimo Bla 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 Immagini Retroilluminazione, la abbasso un pochetto, un po' meno Ok, dovrebbe andare Li metto a fuoco, ok Metto a 20 Luminosità, abbasso un po' meno Aspetta, fermo, dove sei? Ok, così si legge sicuro, bene Ok, proseguiamo Le cose le sale dei prigionieri che muoiano Ah, beh, facciamo presto Sono Lucia, sono questi gran cazzi, sono il futuro super uomo oltre a Naruto, di conseguenza se non vuoi che ti prenda a calci, vai Potrei mettermi a 90 per te Ehm, no Già fatto Già fatto Hai detto che verrò con sa, con Sasuke, non con suigezza Verrà in tutti i sensi Ohhhhh Non venire? Oggi veramente sono in vena di battute zozze Parla colui che in futuro diventerà il suo assistente Minga ste chiavi Sì sì ce li ho tutti i personaggi disponibili porco giù Dall'altra parte L'abbiamo appena detto Ciao No, farò altre battute sconce Torno indietro Torno indietro, qua c'è una cosa Mio 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 Allora di qua E' pieno di frog Cazzi Non è ancora il momento della battaglia contro Teitaro Ma se non ho ancora fatto niente in questo episodio Sì Non è ancora il momento della battaglia Svalvolato come una marmita Non proprio mente Non è ancora il momento della battaglia Ops Esatto E' quella lì Tanto non se ne è mai fatto un cazzo di quel segno Sasuke L'ho usato solo contro Naruto al massimo della potenza Uniglio Uniglio Ora Cos'è quello? Non ho un tronco Fa un culo Fa un culo piccione Cioè niente Andiamo Teoricamente sono dalla parte opposta di dove siamo arrivati con Naruto quando abbiamo combattuto Un po' tanto corto no? O forse no Però da tutt'altra parte Niente Ciccato Non c'è questa strada Bene Bene Non lo so Forse è passarci attraverso La domanda del cazzo Sui chezzo migliore non potevi fare tu eh Non potevo fare La mia segreta Ma che simpatico faccia da culo Ma che simpatico faccia da culo ripeto Grazie mille Per tu Ver E' Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un po' nel caso torniamo indietro. Qua dietro cosa c'è? Ok, so. No, è chiuso. Ok, sì, è proprio chiuso. Niente, torniamo indietro. Sarà di sicuro in una di quelle cose, di quelle strade. Secondo, ah, mamma mia, sti cambi di inquadratura, che schifo. Ma sta da entrarsi in quelle stanzette? Sì, sta da entrarci in questa. Controlliamo giusto qui. Che video di merda? Cercando pergamene senza manco una battle, un qualcosa di... Ed entra, per l'amor di Dio. Carta straccia, carta straccia, carta straccia, targhetta per 22, madonna, che me ne faccio? Sicuro sarà l'ultima in fondo. Boing, 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 boing. Comunque, comunque... Ah. Ma che... Ah. Ah, su questi cosi sono... Vabbè. Comunque, non mi si venga a dire che io non sono un iscritto attivo, perché Matti mi sono messo in pari con Naruto e me lo son visto tutto. Mo' devo vedere quale altra serie seguire. E poi mi snocciano in una botta solo tutti. Il problema è che io di tanto in tanto, quando vado su YouTube, solitamente tendo a rivedere più volte gli stessi video. Ma non tanto perché, ma tanto perché so che mi rilassano. Cioè, per me, YouTube, ad esempio, è una cosa che mi deve rilassare. Infatti ho visto per tre volte una specifica serie di Minecraft di Casu90, ma perché? Perché mi rilassa. So che guardando loro, giocando a quel gioco, mi rilasso. E alla sera a me serve rilassarmi, perché sennò faccio fatica a dormire. È per questo. Cioè, se mi infogo, poi... Non so da fare. Eh, qua non c'è un cazzo. Qua non c'è un cazzo. Vabbè, qua non c'è un cazzo. Quante bergame ne erano da trovare? Una? O due? Che barba. La cosa più semplice è che Roshimano non la poteva fare, no? Ma ce la schifo. Da qua. Bene. La porta deve aprirsi, bla bla bla. Ok. E fatemi uscire da questa porta. Con... Altra informazione d'utile. Un paio di settimane fa non ho pubblicato il venerdì e il sabato, ma non perché ho problemi di video. Anzi, con Bogueco Castle ho problemi di video, perché non sono riuscito... Ah, wow. Ah, sì. Non sono riuscito a registrare, cioè non ho avuto il tempo, perché mi ci vuole un po' per organizzare una registrazione di Bogueco Castle, quindi mi sono trovato impossibilitato a pubblicare. Mentre invece, dal punto di vista delle... delle puntate di Dead Island le devo registrare di nuove e tra l'altro devo registrare quelle speciali riguardanti l'acquisizione dei teschi utili per gli easter eggs, quindi devo organizzarmi anche per questa cosa e mi serve un attimino di tempo dal momento che adesso dovrebbero arrivare le ferie, mamma mia quanti idoli, dovrebbero arrivare le ferie di Natale, per quanto mi... ovviamente mi ritirerò per lo studio, mi ritirerò anche in registrazione per diversi contenuti che voglio portare in futuro. Quindi preparerò quelli, preparerò i nuovi episodi speciali di Alice Madness Returns, anche perché come sapete finiti già di registrare e mi mancano le parti speciali eccetera 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 e anche quindi questa parte qua speciale di Dead Island sul recupero dei teschi per gli easter eggs. Forza sbrigiamoci! Sono già morti tutti, tranquilla, siamo a posto così. a posto così. Clic, 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 clic. Chi è morto non c'è? Chi è morto non c'è? Chi è morto non c'è? Sì, ma... Grazie a tutti. Questi gran cazzo Questi gran cazzo no 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 Elena Fatta la spesa? Fatta la spesa? No Andiamo, almeno questo video avrà un po' di contenuto Ah ok, un attacco ravvicinato al suo Oh yeah No, troppo presto, sbagliato Aia, questa non me l'aspettavo No, 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 no Aia, tutti addosso, mi soppusci Ma è così giusto? Mamma come funzionavano male le schifà Me la sono rischiata tantissimo Stay down Mi sa che non ci arrivo Ah no, ci arrivo Perfetto L'apprendisci Come Porci Del mio nuovo episodio Spero che il video vi sia piaciuto Anche se poco pieno di contenuti Poco ricco di contenuti Veramente scarso Ci rivediamo presto Al prossimo Gameboy Sempre qui su Ninjaston 2 Ricordate sempre che c'è la descrizione E per il resto Statemi bene E alla prossima Ciao ciao Ciao